Kobe Bryant è uno dei sportivi che per chi pratica il basket è un po' parte di una memoria collettiva e condivisa. Onorarlo con un campo è un po' un modo per rafforzare il fatto che è il più classico dei esempi che certi sportivi non vengono mai dimenticati. Non a caso anche negli Stati Uniti l'hashtag che viene più usato per commemorarlo è Mamba Forever. Mamba era il soprannome, forever non c'è bisogno di spiegarlo. Il giallo e il viola, i colori che rappresentano Kobe Bryant, a lui è dedicato il playground che ha inaugurato l'Amen Scuola Basket Arezzo. Una inaugurazione anomala per il rispetto delle norme anti-covid ma rimane sempre un'ottima notizia. L'impianto realizzato a fianco del palasport extra Mario Dagata è stato fortemente voluto dalla Scuola Basket Arezzo e dall'Amen che hanno unito le forze per dotare la città di un nuovo terreno da gioco che permetterà di sviluppare a livello locale il movimento della palla canestro 3 contro 3 che è recentemente diventata sport olimpico. Il campo all'aperto è stato fatto proprio con l'idea di essere pronti alla nuova tendenza nella palla canestro del 3 contro 3. quindi sarà usato ovviamente molto in estate, sarà usato da tutti i nostri ragazzi, noi lo useremo anche, anzi vorrei aggiungere una cosa. Noi siamo stati la prima società italiana di palla canestro a partire sotto lockdown con gli allenamenti individuali a distanza. Provate a immaginare se avessimo avuto a quell'epoca un campo all'aperto si poteva partire ancora 20 giorni prima. Quindi a maggior ragione diciamo che sarà usato ovviamente da tutti i nostri ragazzi che praticano a palla canestro ma anche da altre persone. Ovviamente andrà un attimino regolarizzata questa cosa se no diventerebbe un parco pubblico insomma e questo non lo è. Però diciamo che è a disposizione un po' di tutti. È un modo di vivere lo sport come dire in maniera appassionata però viverlo in maniera normale senza agonismo spesso o quell'agonismo che nasce tra i ragazzi. Per questo io dico che voi recuperate non soltanto dei materiali ma forse recuperate anche dei vecchi atleti che vorranno venire qui a tirare due canestri. Perché questo è uno sport secondo me che rimane nelle vene di chi lo ha praticato a livello agonistico no per tutta una vita. Quindi grazie. Bellissima notizia quando si inaugura un impianto sportivo penso insomma poterlo fare molto più spesso sarebbe bello, molto più bello. Poi le notizie belle in questo periodo servono visto che ce ne sono tante brutte. Questo è un campo che arricchisce il patrimonio della città di Arezzo, un nuovo impianto sportivo, un playground per giocare a basket all'aperto realizzato con tutti i crismi grazie alla SBA, allo sponsor AMEN e alla collaborazione del comune, degli uffici sport equidiche giovanili che hanno dato una mano. Tra l'altro ha realizzato in pochissimo tempo perché il povero Kobe è mancato nel 2020 a gennaio e siamo a fine ottobre e il campo è già realizzato e dedicato in suo onore. È un'emozione particolare inaugurare insomma un campo dedicato a Kobe Bryant però vorrei sottolineare con lei la vicinanza a questa società che voi avete sempre manifestato. Non c'è niente di scontato in questo periodo? No, no, no. In questo periodo anzi è tutto molto difficoltoso però abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta e siamo fieri di averlo fatto. Quindi abbiamo fatto degli sforzi in più quest'anno che è un anno veramente molto particolare però ci siamo riusciti. La vicinanza si è forte anche perché io sono un amante del basket, l'ho sempre praticato da piccolo e quindi quando sono arrivato ad Arezzo, ho conosciuto il presidente Castelli, c'è stato subito sintonia. Io continuo a giocare in questa società, nella Serie D e quindi sono direttamente coinvolto nella gestione. Quando è venuto fuori questo progetto l'ho sposato immediatamente. Il canestro più bello quale sarebbe? Diciamo nel 2021 perché ormai il 2020 lo dobbiamo accantonare. Il canestro più bello sarebbe all'ultimo secondo contro la squadra del Covid. Allo scadere, alla sirena, magari rivedendolo per vedere se è entrato o meno ma quello sarebbe il canestro più bello. Speriamo che accada.